Onorevole Luciano D'Alfonso, questa mattina sopra luogo nella piastra logistica di Saletti per rendersi conto di persone, di vedere qual è lo stato dei lavori e anche con la sua competenza specifica nelle opere pubbliche ha fatto delle domande alla direzione dei lavori. Io spero che le mie domande non siano state quelle possibili di Giancarlo Magalli perché so che sulle infrastrutture della regione Abruzzo, sulla sua direzione ferroviaria, sul suo patrimonio infrastrutturale c'è un Giancarlo Magalli che però non mi riguarda. Sono venuto per rendermi conto qual era la verità e la verosimiglianza. Per il completamento dei lavori di questa piastra logistica manca un milione di euro di lavori che non devono vedere il disinteresse, la distrazione o il nascondimento di chi parla in nome della politica di maggioranza della regione. So che il presidente protempore della regione durante un'occasione qui in Atessa nella zona industriale abbia sventolato il fatto che non ci sia bisogno di null'altro di più se non di 100.000 euro. Tra 100.000 sollevato come numero dal presidente attuale in scadenza della regione e il milione di euro che abbiamo verificato e validato oggi c'è una bella differenza. Un milione di euro di lavori che potevano essere recuperati facendo istanza a valere sul DL Aiuti che è uno strumento che permetteva a tutte le stazioni appaltanti di recuperare risorse per l'aumento dei prezzi. Non lo si è fatto, si può rimediare ancora adesso riconoscendo da una parte il problema e dall'altra parte il valore fondamentale di questa piastra logistica ferroviaria al servizio del sistema economico e produttivo di una zona fondamentale per l'Abruzzo e per il centro dell'Italia. Oggi ho toccato con mano la dedizione del personale preposto, l'architetto che è il direttore dei lavori, il RUP che non ha potuto essere presente ma di cui mi risulta la volontà collaborativa. Mi resta strano capire il lavoro aggiuntivo che doveva essere fatto dal dottore Cavaliere Dolfi che però mi sembra non sia rintracciabile perché se una perdita di velocità documentale c'è stata forse la si deve attribuire anche a questa figura che nel Novecento si sarebbe chiamata l'ingegnere capo di tua divisione ferroviaria. Qual è adesso l'attività che farò? Cercherò di sollecitare in maniera tale che esca velocemente l'ulteriore milione di euro di lavori senza scommettere sull'aspettativa di quella che io chiamo la Merker trattino Zess del professore Miccio perché non va neanche Miccio strapponato e tirato per la giacca per ogni manchevolezza o per ogni mancanza. Altro argomento di cui si sta occupando in questa mattinata è la Bolkestan e quindi i balneatori. Sì, io vorrei che anche su questo capitolo si smettesse di dire la solita bugia proviamo ad avere proroghe. Vanno fatte le gare e le gare a mio avviso possono tutelare gli attuali gestori. L'importante è che la stazione appaltante non sia una per l'Italia ma siano tante stazioni appaltanti adattive, coerenti con le caratteristiche territoriali. Io ne vedrei una per ogni regione con commissione all'altezza e con un bando capace di rilevare lo specifico dei nostri luoghi e lo specifico delle gestioni che caratterizzano l'economia del mare, dell'Abruzzo, dell'Adriatico e del Tirreno. Si può fare. Io saprei esattamente come procedere sia con il bando, sia con la grandezza della stazione appaltante e anche con la bravura dei componenti delle commissioni di gara. C'è bisogno di dedizione, che è il contrario di viaggiare a destra e a sinistra come vedo a volte fare da parte di alcuni governanti regionali.